E' davvero molto difficile trovare lavoro qui. Come campano tutte queste persone? Tutto qua. Pagheremmo per questi scrocconi. Loro mentono tutto il giorno. Ottengono le indennità. E fumano anche erba. Siete degli schifosi razzisti. Tornate bene nel paese da cui siete venuti. Non sai mai quale tizio causerà problemi? Siamo sempre stati in un paese internazionale e rimarremo un paese internazionale. Ve ne venite qui a rubarci lei indemnità? Vi prendete pure il gas. Va bene. Anch'io mi sento uno straniero adesso. Hanno scelto la polacca, capisci? Un gruppo di albanesi per l'esattezza. Hanno fatto un sacco di falò là dentro. Cosa pensi delle persone dell'Europa dell'Est che vengono ad abitare nel tuo paese? Speriamo di liberarci presto di voi e di avere un po' di pace qui in giro. Se si mette a parlare di nuovo in lingua straniera, la arresterò per aver impedito il corso della giustizia. Vieni fuori, boh! È troppo, vi chiudo. Cosa pensi delle persone dell'Espasso